Musica Un lungo applauso ha accompagnato la fine della messa funebre del Papa Emerito Benedetto XVI. Da Piazza San Pietro si sono levati i cori dei fedeli, oltre 50.000 persone, secondo la questura capitolina, che invocano Ratzinger Santo Subito. Iconico il gesto di Papa Francesco, in silenzio con una mano poggiata sul feretro del suo predecessore, immobile in un profondo raccoglimento di preghiera. Poi la bara è stata portata dai 12 sediari all'interno della Basilica per procedere alla tumolazione nelle grotte vaticane. Qui la bara sarà posta in un'altra di zinco e in una seconda in legno. Tra le autorità presenti in piazza è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il suo predecessore Mario Draghi. In lutto anche i Palazzi del Potere, Bandiera Mezzasta a Montecitorio e Palazzo Madama. La curva discendente dell'inflazione sembra aver toccato finalmente l'Italia, anche se nel nostro paese frena meno rispetto al resto d'Europa. Questa mattina è stato pubblicato dall'Istat l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività, che aumenta dello 0,3 su base mensile. A novembre era stata dello 0,5 percentuale. Dell'11,6 invece è su base annua, 11,8 nei mesi precedenti. L'inflazione, anche se in calo, resta dunque a doppia cifra nel nostro paese, a differenza degli altri grandi paesi europei. Altro dato pubblicato dall'Istat è quello dei risparmi. Le famiglie italiane non riescono più a mettere soldi da parte, o almeno non come nella parte centrale del 2022. Dall'analisi sul conto trimestrale a P, reddito e risparmio delle famiglie, la propensione al risparmio è in calo di 1,9 percento rispetto ai tre mesi precedenti. Sono partiti questa mattina in tutte le regioni italiane i saldi invernali. Il caro benzina, l'aumento delle bollette, l'inflazione più in generale hanno convinto gli italiani ad attendere gennaio e le svendite prima di comprare, soprattutto, abbigliamento. Uno studio finanziato dalla Confesercenti riporta che il 72% degli italiani comprerà almeno un capo in saldo per un budget medio di circa 160 euro a persona. C'è un altro 23% di italiani che ha spiegato che attenderà di vedere i prezzi dei saldi e cosa è esposto in vetrina prima di scegliere se spendere o no in questo periodo. L'avvio della stagione dei saldi è un grande appuntamento non solo per i consumatori, ma anche per i negozianti che in questi 60 giorni dell'anno vedono riaffollare i loro esercizi commerciali, prendendosi una rivincita sul web. Lo studio di Confesercenti Moda, infatti, racconta che l'89% degli intervissati comprerà entrando nei negozi, toccando la merce, provandola e non online. Per prevenire una nuova forte ondata di pandemia è stato approvato dall'Unione Europea un piano che prevede restrizioni per i passeggeri in arrivo dalla Cina. Si cercava l'unanimità dei 27 Stati membri e si è raggiunto sì un accordo, ma solo su alcune raccomandazioni. Solo raccomandata, ma non obbligatoria, è la richiesta di un tampone negativo entro le 48 ore precedenti al decollo e ancora mascherine da indossare a bordo e tamponi a campione all'arrivo negli scali europei. Contrari alle nuove restrizioni, l'Austria, ma anche la Germania, che ha sposato una linea più cauta. Lo scenario più probabile è che si continui ad andare in ordine sparso, mentre Pechino protesta ritenendo inaccettabili queste misure e già si è detta pronta ad adottare contromisure. In ogni caso in Cina non circolano varianti che non siano già presenti in Europa. Il 97% dei cinesi malati sono stati contagiati da sottovarianti di Omicron, la cui letalità è comunque molto alta. Discutibile infine il rifiuto di Pechino dei vaccini offerti da Bruxelles e più recentemente anche dalla Casa Bianca.